Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono EzioT6 e benvenuti in questo nuovo video e nella nuova serie del mio canale Dato che nel vlog che avrete visto prima di Elseworld ho parlato di nuove serie che volevo portare oltre a Minecraft E questo è un gioco che mi ha intrigato un pochino diciamo Perciò, grazie a Genius per avermi anche aiutato perché già sono a livello 8 e non è passato neanche tanto Siamo in un... Dungeon Angel che è successo? Angel non stai parlando Angel! Piccola è entrata di mia madre Piccola è entrata di mia madre un attimo Che sono mutato un attimo Non ti senti pure dei vostri stessi per crashare? No no Se laga il gioco, problema mia Castello di Robo Cazzo, aspettate che... Perché lui non ha questo da fare a parte di uccidere dei mostri al... Dove? Dove devi ucciderli? Il ponte di Lobo? Ah, il ponte monumentale di Robo Invece noi vado insieme al castello di Robo Perché Elseworld mi fa così cazzo? Wait che... Ah Guardate oggi eh Comunque come potete vedere non hanno i miei vestiti, mi si sono rotti È nudo, gliel'hanno rotti, gliel'hanno strappati Oh ciao bella Io comunque in questo dungeon non ci dovevi essere, solo che... Vabbè, sono dettagli È un dungeon molto potente per lui ma tanto ci saranno problemi Tanto non è che morirò... Cioè... Se laga il video è perché... Mi sta crescendo Elseworld Adesso devo uccidere qualcuno eh Ok, no, non posso registrare con action fra poco Scusate piccola eh Annullo Ok Ok Del tipo che ne avevi tre qui Eh, del tipo che io non muoro neanche perché io sono sexy Tanto bevo perché se no muoio E poi vabbè registreremo anche un nuovo minijuoco dopo Non è un minijuoco però È sexy È sexy meglio no Non spoileriamo niente Comunque come potete vedere io sono illuminato perché scendo dal cielo Scendo dal cielo No scherzo perché c'ho un gadget che è sto coso Potete Ah ehm Per chi non non conoscesse Elseworld È un gioco tipo GDR online però è GDR e basta Cioè È un gioco abbastanza figo A me è piaciuto anziché ve lo puoi dire anche Genius Che io all'inizio non ci volevo giocare Lo mi piaceva Faceva schifo dicevo Eh però poi ne sono ricreduto perché Il personaggio che sto usando io si chiama Raven Quello che sta utilizzando Genius è Add Poi di maschio c'è Elseworld È Cheung È Cheung che ha un pistolone al posto di un'arma però vabbè Un cannone vabbè E io lo chiamo pistolone Eh chiamalo pistolone chiamalo come ti parli Basta che questo tizio qua ci muore Ehm Se no non è morto E no poi ci stanno tutte donne che Donne donne sono solo donne Anche se sono forti Però vabbè C'era una con tipo le lance L'arco mi piace a me E poi vabbè Potevi anche chiedermi per esempio Una tipo specie di serie o da solo o con Genius o con altri Perché tanto cercherà di convincere qualcun altro a giocarci oltre a Il tipo si sentiva il mio fratello che ha urlato Sì Ok Un saluto al mio fratello che urla come al solito Vabbè io faccio le combo al muro invece di colpigliato Eh beh no poi Me potete dire anche se Volete un altro personaggio Tipo una storia diversa O giocare con due personaggi diversi Tipo con Genius giocare con questo personaggio E con E da solo giocare o con Ad o con Ellsword O quello che c'è il pistolone Perché Il titolo io lo chiamo quello che c'è il pistolone Eh Ellsword e il pistolone Ad Eh no Genius Angel e il pistolone Sì tipo tre uomini e una gamba Com'è che si chiamava il film Sì ve lo vedo il giovane di Jacob Ah e comunque le mosse di Di Raven sono tre Almeno io ho queste perché all'inizio Una che fa schif No quelle che ho io all'inizio adesso sono tre E fanno tutte Tutte cagare tranne questa che avete visto adesso E questa guardate Le mosse utilizzabili comunque sono quattro Poi le puoi cambiare durante il gioco Ad esempio se pgk vedi tutte le mosse che puoi fare No ma tipo c'è anche lo slot Cinque sei sette otto almeno come l'ho Sì lo vedi lì però si deve pagare per sbloccare I soldi veri i big money E i big franc Guarda cosa c'ho Angel guarda Oh my god what is this E io non lo posso avere Non lo so io ce l'ho ad perché era un evento Me l'ho trovato nell'inventario questa carta Non vale E' velocissimo sta cosa Lo voglio anche io Adesso uso la sua mossa Che figata Eh io l'ho un culato Eh io l'ho un culato Ma che figata dura per sempre sto coso Ma che Ah quella mossa che state vedendo adesso è CTRL Che sarebbe tipo Un upgradeamento del player che lo rende un po' di forte Upgradeamento Amma mia Che paroloni Ma che figata c'ho sto spado gigante a sto pet Che cazzo era quella cosa Non ne so è a me così Vabbè intanto mi coso pure Poi fammi vedere un po' Allora l'hete minuto c'ho Vabbè diciamo solo che il dungeon non era il mio però lo sto facendo io Oggi non si sta Non è vero lo sto vedendo perché io raccolgo le cose e poi le devo buttare Quella la cosa Ma che figata guarda quando salta Ho visto una cosa bruttissima di quando saltavi Pareva tipo una cosa porno però Sembrava il pistolone Guardate però è uno scorpione con il pistolone Oggi ce l'hanno tutti con questo pistolone Guarda 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 Sembra tipo un drago Vabbè andrò avanti perché se no qua non finiamo Oh si sale si sale Vabbè non riesco a salire io Eh disattivalo Vabbè lo disattivo Perché se no si scarica Ah io però volevo far vedere sta mossa Una cosa del genere No non mi viene Tipo questa Tipo salti e premi Z e fai una cosa Bellissima Bellissima Non mi fa non ci faccio questa Però non l'ho preso sto tizio bastardo Ah quella lì che hai visto tipo al volo Volando con Z Però genius me li uccide tutti Vai Ah se vedete tipo HP 3550 è perché sto morendo e premo Q delle pozioni perché se no muoio Non le sprecare tutte però Usare tutte le cose a fin di vita Eh ho capito Stavo a fin di vita prima Io non ho ancora usato a uno Sai come è per il tuo livello Io sono a livello 8 e sono in un dungeon di livello 22 Non è normale E poi alla fine Cioè vediamo poi perché è possibile che facciamo anche un pezzo della mia questa Sì se presaggiamo Cioè se c'ha il dungeon magari No se c'è Se mi funziona quella parte di mondo almeno Ah già perché si era buggato Perché è buggato Si era buggato il ponte monumentale di Rob C'erano i nemici che ce n'era solo uno E lo colpivi e non perdeva danno Eh non imprendeva danno Bellissimo cioè Guarda che gangbang su sto qua mamma mia siamo forti Lo killiamo male Ok dov'è che Comunque lo voglio anche io un pet Devi aspettarla questa Dobbiamo andare Sarà la quest del pet Dobbiamo andare qui Intento sti cosi che riescono Eh sì ho notato L'ho già notato prima C'è un pollo Se nel caso ti serve Hai mangiato il pollo? Hai mangiato? No mi sa che mangiato io Non lo so Comunque se vedete che tolgo poco È perché ovviamente sono a livello 8 E questi qua non so che livello sono Comunque non è poco 60 Devo dire Che toglie È poco perché Sono sempre a livello alto però Infatti tolgo 2000 Mille cose varie Vabbè io tolgo da 60 ai 400 Ora vi faccio un attacco potento Guarda Guarda Toglio 400 Vabbè arriva Genius Con le sue mosse Un'energetica Agogo Un'energetica No non è morto Bastardo dovevi morire Però a me piace troppo questa Mossa vai Un attacco poderoso Quella causavo sempre io A Raffi Oh la smetti di sparare È morto? Perché è l'unica che ho adesso Ovviamente Perché se no Comunque tu sei già a livello 8 Io sono arrivato a livello 15 A livello Dopo 5 episodi con quella Non mi riusciva a spararlo Ok Eh perché forse facevi livelli con Lion Eh a parte quello Forse facevo pure la difficoltà Sempre in minimo Perché non sapevo come cambiare la difficoltà Prima Eh io non so come si vede Perciò Eh dove c'è stanno le quest C'è scritto Ci clicchi sopra Poi a fianco adesso C'è scritto Difficoltà Normale Difficile E' esperto Io quasi sempre faccio esperto Però ora ho messo difficile Perché Per abbataggiarti Ah Perché difficile E' esperto sarebbe tipo Maggiore di difficile Ancora più difficile Vabbè ora Dica dopo ne famo uno Dai Però Tipo Questa dungeon Eh ovvio Quelle sono Solo lì puoi scegliere la difficoltà L'hai ucciso? No è ancora vivo L'ho fatto solo Fa un volo Eh Generatore di particelle Generatore di particelle Poi di cellule Così ci riproduciamo Faccio il super Best Domanda È che Ha una voce da Un po' bassino Tipo femminuccia Così Però è un figo È un figo Ma che è il mio o il tuo? Il tuo Il mio ha una voce tipo questa E io sono Raven Raven È troppo figo Raven Raven Io sono Raven Ho fatto il boss Ecco E io ovviamente Non l'affronterò Vabbè tanto Un po' di colpi e muori Vabbè no L'affronto però Un po' di meno Perché Tiè Bravo Ok Dov'è che sta È bossicino Bossicino Dov'è sta bossicino? Lo vuoi L'ossicino? Eccolo qua Ma dov'hai? Questo si mette a volare Vabbè Attento che Aspetta Ma io posso Utilizzare lui Il mio amico Sì Il mio caro amico Pet Caro amico Ti scrivi Vabbè Che cacchio ho fatto La combo con il pet Ma non ci credo Spaccio uso questo È già morto Non ci credo È morto Ma non ci credo L'ho ucciso col pet Overpoo Puff Va bene Vai scendiamo Quindi Il segno Il segno L'essore creatura Di un tale Barazola Bene Per aiutare A portare La pace Di livello Wow Da quant'è Che non salivo Di livello S più S più S S Ah ma poi Tanto io La dovrò rifà Per forza Questa Perché Sp Vediamo L'exp Totale 24 1024 Perché Zero Zero Forse Allora Non puoi prendere L'esperienza Nei dungeon Di livello Più alto Che non è già fatto Sarà quella La cosa Ok Siamo al ponte di robo Qua Uccidi questi tiz Vabbè Sì Vediamo un attimo Sì 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 Faccio Avvia dungeon Con i membri attuali Un attimo Devo trovarlo Prima Ah difficile Normale Esperto Eh bravo Elder Elder è questo No normale Basta Dai Metti normale Dai No aspetta No Eccola Difficile Avvia con i membri attuali Oh vai Bosco notturno Non so quante volte L'ho fatto Eh C'ho questo La fa Poi abbiamo Un'altra Che ce n'hai Pare Una cosa brutta Però vabbè Questo qua l'ho visto Tipo in un episodio tuo Non mi ricordo quando Dovrebbe essere O il primo O il secondo O il terzo O il quarto Vabbè Ci sono venuto un sacco di volte Qua dentro Ho perso il conto Vabbè È normalissimo È livello 9 comunque Ho aumentato Il livello Anche io prima Sono aumentato Sono arrivato al livello 23 Vabbè Te però Prima Io qua non posso tenere I punti esperienza Quindi se li indebolisco E basta A meno che non riduce Per sbaglio Oh che è questo È un ent 82600 Andiamo sopra o sotto Io Vabbè Io vado sotto Ma cos'è questa pallina blu? Quelle palline Se vanno dentro Il corpo Degli alberi Si animano Ok Dai uccidilo Eh ho capito C'era un attimo Di problemi Con i tasti Non so Dobbiamo andare su A uccidere gli altri Ci siamo dimenticati Vabbè Ma te sei più veloce Non vale Cos'è sta roba? Vediamo sta magliettina A cosa mi serve No fa schifo Ok Io ho tolto Un po' di vita Lascia 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 Un mazzato Ok Però ci stanno Due porte E vabbè È uguale Cos'è un rifamo Lo famo giù Vabbè E manco bisogno Di rifarlo Con camera Almeno Oh La pallina Ecco che era Che mi fermava Non mi scordo Fuori imbambito Oddio Sono troppo Di lontano Sei volato Vai uccidere Oh le palline Le palline Le palline Vai Io ho ucciso La pallina Le palline Ma si sono fatte Grandi Con quello lì Eppure per Ottenere gli slot In più Dell'inventario Devi pagare Eh Gli slot In più Dell'inventario Non lo so In realtà Eh Ditelo nei commenti Credo Eh infatti Perché non ho Però credo pure Di quello Si Dove andiamo A livello A livello 15 Devo Devo fare le missioni Per classare Ovvero Devi fare delle quest Che ti dice Che si chiamano Via Al classaggio Una roba del genere Comunque sono Scritta in blu Se non erro O in viola Non mi ricordo Poi andrò a vedere E praticamente le fai Dopo un tot di tempo Che hai fatto tutte quelle missioni Ti danno Ti fanno scegliere la class Che vuoi Ah cioè Class ovvero Ovvero Sarebbe La trasformazione Che rimane per sempre Una specie di trasformazione Ah Perché tu ora Sei trasformato E stai per sempre così Non puoi Si Ah quindi Cambi Cambi il tuo aspetto La forza Ti danno degli oggetti Per il classaggio Bavagio Dovresti averlo ucciso tu Quello eh Non lo so Però sono arrivato a palla Per Gli ho dato il cazzo Hai ottenuto la bacchetta magica Di Arlecchino Di Arlecchino Si Arlecchino Si Va bene Boss finale Eccolo Che è un E' una stone Enorme Aspetta 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 Allora Intanto uccidiamo queste E poi fermo Lo uccido io Perché Non lo toccare Ne manco Guarda Lascia Una mossa E basta Ok bravo Io ho levato Mezza vita Perché c'è scritto Per uno e per due Se ci fai caso Prima era per due E per uno Dai Aralo Dai gli manca pochissimo Unciso 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 Vittoria Ginnastica rotolante Il mio pet si mette a fa Ma che cosa fai Ginnastica rotolante Vabbè Ah pure a me la Zero di esperienze Expe 6061 E di che cosa sono Le monete Le soldi Ma do che Ma ho preso tipo una Fermo aspetta Ho preso tipo Vabbè intanto Comprendiamo la quest Che mi dà delle cose Questo grazie Per avermi completato La quest No 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 Dai dai Eeeh Finiamo qui il video Facciamo qualcosa No un attimo Un attimo Un attimo Ah posso selezionare Una skill nuova No vai selezionare Aspetta voglio fare Prima Ah qua esce La mano per terra O una cosa blu Cioè Distruttore terrestre O colpo gigante Ma fai colpo gigante Distruttore terrestre Ce l'avevo anch'io Ma è una cagata Gli è pochissimo Tira un pugno in terra E non fanno quasi niente Ok E invece posso cambiare Quella là Scorticatore Si la do Basta che sblocchi Quell'altra E la sposti Al posto di quella E questa non me la fa sbloccare Eeeh Forse non hai Gli skill point sufficienti Oppure Solo una di quelle due Si può sbloccare Eh si credo Aspettate che devo Trascinare l'amora Mai Cos'è sto coso Armatura Nasod Però mi dice tipo C'è Un APU accanto Cosa vuol dire Ah che aumento il livello Quello si Aumento il livello Della mossa Ok Fatto Beh Se riesco a spiegare Ok Eeeh Un attimo Vediamo la quest Intanto Questa qui L'inventario al volo Velocissimamente Che ho Ho una Bacchetta magica Di allerchino Per Ash Questa qua Che è una merda E questo Che è una merda È una merda Rispetto a questo È una grandissima Cagata Vabbè Vediamo un attimo I materiali Ho una Fazzoletto Di banda Di Beh Raro Non è che devi Incarci tutti Quello che No Volevo vedere Il video lo scorre Eh Un attimo Ok Avvia PvP No E PvP Non li fare Ora Vabbè Perciò Questo nuovo video E questa nuova serie Sul mio canale Spero vi sia piaciuto il video Insieme a Genius Infatti lo ringrazio Tanto Perché Oic L'ho uccito Sto ragazzo Eeeh Vabbè Perciò Questo video è tutto Ci vediamo al prossimo episodio Di Hellsworld In un nuovo video In un nuovo tutto Se vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Di tutti e due E appunto E passate i link Di descrizione Bravo E la pagina di Facebook Troverete in descrizione Più mi piace mettete Più la userò Lo prendete nel culo E quindi noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao ragazzi Ciao